Salve gente e benvenuti in questo nuovo episodio di Bazzara Son Goku Iros Bene, continuiamo con la storia di Injanta Masamune Allora, volevo sfidare i soliti maventare Stiamo da questo Beccatevi la furia del trapo Tu puoi vedere il gioco di Bazzara e scriverlo sui piedi E' un gioco che ha molto più senso giocare che almeno... Vabbè, i combattimenti non sono sempre uguali nella mappa Ovvero Samurai Warios 3 che ho Una volta che non ho finito Son Goku Bazzara Iros Questi personaggi Si vedrà se farlo o meno E come c'è anche un altro gioco in stile muso che vorrei fare Che sono questi giochi qua Poi più avanti si fa il giondaggio E si vedrà quale fare di questi Allora c'è... Goondam Warios Poi Samurai Warios 3 Ve l'ho detto Poi c'è... Wompies Piace Warios 3 E... Poi ci sarebbe... Un altro Samurai Warios però All Stars Con tutti i personaggi un po' mischiati Di Samurai Heroes e Empire Warios Non sbaglio si chiama così Ed è anche un pochino di... Ninja Gaiden Con Ryu e... E... Ayane Peccato che non ci sia... Kazumi Peccato Ovviamente quello lì... Deve lo tradurlo visto che... Non è italiano Tutti gli altri lo sono Vabbè Vediamo... Vediamo... Vediamo più avanti Perchè forse prenderò un altro gioco in stile muso Dove è Sì 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 Ho pensato il mio attacco preferito del pubblico che non ce l'ho ancora Non ce l'ho ancora Non ce l'ho ancora Non ce l'ho ancora di avere... Plo Permesso 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 Molto gi... 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 A parte vostra... Fai passare Sì 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 Allora io vi consiglio ogni volta... Di andarvi vedere la serie... Doppiata su... Yamato Animation... Su Youtube... Se sia la prima o la seconda stagione... E anche di andarvi vedere... Anche io e magari il team... Che... Mi pare che potete vedere... Sul... Sì Sì Eh... Anime... Unity... Io... Io... La vedo sempre gli anime... Ah giusto... Potremmo usare l'altra parte... E poi ridagli quotidianamente... Scusate... Ma tu la giorni... Non la riconquisti... Col cavolo... Dit... This is your last stand... To try to make the most of it... Ok... We promise... We promise... We promise... We'll return home to home to you... That's the last magazine... Questi boss sono scarsi Se non sono i personaggi Come dire Come si dice Protagonisti, personaggi protagonisti Guardate il drago Che le truppe Non mi interessa, tra la porta Vai che sei appicchi Un altro caso che abbiamo detto Questa sei appicchi, dura pochissimo Vabbè Proiettivi di mezzo Ma dovrei buttare tutti nel fossato Appunto L'ho detto e l'ho fatto Oh noi non mi va di niente poi come potete vedere ha una stellina quindi lo batta facilmente e non mi va di fissare mi va di punti ha Margare non mi mi ha fatto non mi ho fatto non hai parlato ma hai parlato sui rifli ho fatto lì lì stappei non sono città non ho mai l'argo di prendere una truppa con ligni un ha anche un confronto, bene con un po' finale è una scuola non è nulla non stai solo non stai solo non stai sempre mi piace mi piace è per il miglioro non è possibile non si può aspettare un po' più solo tu aspettare Sì, in breve sentirai le mie cuore. sembra ok vediamo un po' gli altri però ovviamente vince kenzi ovviamente quà vince saika penso ah no vince molto fica può perdere gli ideati forse ok no but finally i'm so pay good you know any word on mitsunati the presumption is that they will form an alliance with motonari of chugoku is power is considered great on par with the house or kenshin this situation is quickly becoming dire yeah whatever i'll bring everyone it'll be nothing come on kojiro you have to be as excited to see the defeat of mitsunari as i am right ah quanto mi rompe che le scritte non si vedono tanto bene tipo luminose ma si capiscono allora questo episodio voglio affrontare che ne si chiede tanto devo affrontarlo comunque allora credo che qua dovrei vedere qualche porta ecco la linea della storia non ho ancora fatto la battaglia contro il tizio della con la motosega elettrica quel tizio è odioso e forte veramente troppo forte da evitarlo per tutto il livello vabbè ragazzi quest'episodio di son goku basato da murahiro su misi e qualsi vediamo alla prossima ciao